Nella ricerca sociale, noi ricercatori costruiamo dei dati che ci servono per corroborare teorie, perfezionare ipotesi, valutare programmi e progetti. Ci servono per tante ragioni pratiche e teoriche. Quei dati che costruiamo, cosa sono esattamente? Dove risiede il dato prima di essere costruito? Una ricerca sociale poco attenta alla natura autentica del dato che andiamo costruendo rischia di chiedere agli interlocutori domande alle quali in qualche modo si dà una risposta che viene messa in una matrice dei dati e fornirà delle statistiche con due percentuali. Il 27,32% dei rispondenti ha detto che. Che valore ha questo 27,32%? Come è sorto? La testa di questi interlocutori a cosa stava pensando un minuto prima che noi rivolgessimo loro questa domanda? E a quali fonti hanno attinto questi informatori per elaborare una risposta? Aveva un'esperienza o competenza in merito? Hanno tratto la risposta da luoghi comuni perché casomai avevano fretta di risponderti che avevano da fare altre cose. Erano preoccupati quindi la loro risposta è più cupa, è più pessimista o al contrario, avevano vinto a gratte vinci ed erano tutti contenti, desiderosi di far vedere che sapevano la risposta. I dati non sono come i fiori dei campi che si va e con il canestrello della nostra ricerca, della nostra tecnica, si vanno a raccogliere. E i dati non sono neanche nella testa dei nostri informatori per cui se facciamo le domande giuste loro le cavano fuori e ce le regalano. Il dato che andiamo costruendo è una relazione di tipo linguistico. Noi costruiamo dati con procedure linguistiche e le analizziamo attraverso inferenze. Non sono tanti i piani linguistici con i quali costruire i dati e le inferenze tramite le quali analizzarli. In questo libro io ho cercato di condurre una riflessione sulla natura del dato che andiamo costruendo nella ricerca sociale. Cos'è, come viene costruito e quindi come può essere utilizzato. Io credo che il ricercatore debba costruire i suoi dati sapendo che sta costruendo una certa forma del dato o un'altra forma del dato. a seconda di cosa gli serve per i suoi obiettivi di ricerca. È un libro complesso, è un libro credo anche abbastanza intenso. Si parla anche di tecniche naturalmente in questo libro ma non è un libro sulle tecniche. È un libro più epistemologico e metodologico in senso generale. Io spero che possa essere utile a molti di voi. Certamente è una lettura che esce un po' dal sentiero tracciato e battuto da tanti ricercatori nella foresta che andiamo praticando. Qualche volta però bisogna avere il coraggio di uscire dalla foresta e cercare di ragionare in termini nuovi. Spero in piccola parte di averlo fatto e che vi stimoli a riflessioni utili.